Allora, la gente in ogni caso se la tira, li vedi per la strada che se la tirano qualcuno, il cappote, il bavio, il colbacco, il sigaro, c'è un tirarsela che però quando c'è la nebbia, giornata nebbiosa, fanno più fatica, quando c'è la nebbia la gente se la tira meno, perché è più difficile quando c'è questa nebbiolina, col sole uno può, invece quando ci sono queste giornate così di inverno che è freddo, sì colbacchi ci sono sempre pazzeschi queste cose che sembra essere in Russia, però c'è un po' più di umiltà, non so se la tirano un po' meno, il mio parere personale.